Raccolta differenziata a Comiso, così non va. Dopo quattro mesi dall'avvio del nuovo sistema di raccolta, l'amministrazione comunale punta l'indice contro i cittadini, e non sarebbero pochi, che non rispettano le norme. Ma sono degli incivili, trasgressori per scelta e senza attenuanti, o c'è stato un difetto di comunicazione all'utenza? L'assessore Biagio Vittoria non ha dubbi. Buona la prima, assicura, e annuncia misure drastiche, più controlli porta a porta sul ritiro dei mastelli, videocamere, riscontri incrociati sulle registrazioni delle utenze etari e, addirittura, possibile confisca del mezzo utilizzato per l'abbandono dei rifiuti. L'aspetto importante è che, essendo anche il territorio circostante Comiso, con gli altri comuni, eccetera, entrando anche loro in differenziata spinta, così come noi, il fenomeno si è acuito in modo particolare. A questo punto, rientrati dai pochi giorni di ferie estivi, ci si è rese conto che sono necessari ulteriori provvedimenti, provvedimenti che si concretizzeranno nella intensificazione dei controlli per quanto riguarda il ritiro mastelli, nella intensificazione della videosorveglianza del nostro territorio. Ecco, questi sono i due aspetti fondamentali, perché è chiaro che, quantomeno per il nostro territorio, le discariche si formano perché alcuni dei nostri cittadini non hanno ritirato i kit. A questo punto, l'attacco è su due fronti. Quello di costringere, praticamente, perché così deve essere nella nostra società, perché così deve essere in una società civile, costringere quanti non hanno ancora ritirato i kit a ritirarli. D'altro canto, applicare delle pesanti sanzioni, ho scritto nel comunicato che sto informando se legalmente è possibile, anche eventualmente, non lo so, confiscare il mezzo. Vediamo un pochettino cosa risponderanno i legali che ho contattato e quindi stringere sulla risoluzione di questo sgradevole fenomeno.